Cos'è accaduto nelle ultime ore in Calabria? Un vortice di bassa pressione piuttosto profondo è transitato dal basso di Reno verso lo Ionio portando anche 80 mm di pioggia in poche ore in alcune zone della Metino e del Vibonese. La situazione è in progressivo miglioramento stante la traslazione da ovest verso est dell'area di bassa pressione in direzione della Grecia. Cosa accadrà nelle prossime ore? Rimonta l'anticiclone, cioè l'alta pressione di matrice azoriana dalla sua posizione originaria si porterà sul meridione d'Italia dove permarrà per alcuni giorni. Questo cosa significa? Bel tempo prolungato almeno fino alla metà della prossima settimana. Quando è che la Calabria sarà finalmente baciata all'estate? Non credo alle previsioni in medio termine, figuriamoci a lungo termine. Sono convinto però dall'analisi delle informazioni oggi disponibili che per almeno una decina di giorni la prima decada di giugno dominerà una condizione di stampo quasi estivo, tardo primaverile, di carattere abbastanza vicino a quello dell'estate. Che estate vivranno i calabresi? È una domanda che non gradisco perché non credo nelle previsioni a lungo termine. Sono previsioni che risultano ballerine. Oggi abbiamo delle informazioni di un'estate abbastanza calda. Bisognerà trovare conferma di queste previsioni nel corso dei prossimi giorni. Grazie.